Mi chiamo Giuseppe Di Vittorio, sono laureato in economia e commercio e da diversi anni ricopro ruoli all'interno dei principali media economici e finanziari italiani. Nei giorni scorsi Luigi Abbate, candidato sindaco di Taranto, mi ha contattato per propormi il ruolo di assessore all'economia e alle finanze qualora dovesse essere eletto come sindaco di Taranto alle prossime elezioni amministrative. Ho deciso di accettare, ne sono grato di questa proposta e sono anche orgoglioso di questa proposta. Ovviamente la candidatura sindaco di Luigi ha una precisa caratterizzazione, che è quella del superamento del stabilimento sud elurgico presente sul territorio di Taranto. Ovviamente mi atterrò a quelle che sono le linee programmatiche del sindaco e il mio compito sarà quello di creare un atterraggio morbido o un cambiamento come lo si vuole indicare, un cambiamento che sia non traumatico per la città di Taranto. Lo si può fare coinvolgendo i principali protagonisti delle transizioni ecologiche in tutta Italia, attori a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda lo sviluppo della città di Taranto, i libri ci dicono che lo puoi fare in due modi, lo sviluppo, attraverso il taglio delle imposte da un lato, delle tasse e dall'altro lato attraverso l'aumento degli investimenti, che si tratti di Italia, di Taranto, di Puglia. La ricetta è sempre la stessa. Molto ovviamente più facile a dirsi, molto più complicato a farsi. Ho visto amministrazioni che si sono impegnate in questo, ovviamente con molta fatica, però raggiungendo degli obiettivi significativi è importante. Ciò che dà il segno della discontinuità su un territorio è soprattutto l'accesso alle risorse esterne, quindi detto più banalmente le partecipazioni ai bandi comunitari e quando arrivano quelle risorse straordinarie che si nota un senso di cambiamento nel territorio di riferimento. Chiudo questo video salutando ovviamente tutti i cittadini della città di Taranto e ringraziando nuovamente Luigi Abbate per la proposta che mi è stata fatta.